Buonasera, buonasera, buona mattina, sono ormai l'arteriosclerosi galoppante sta dando i suoi primi risultati e ho fatto anche l'analisi del sangue questa mattina mi sono batendo, anche hanno levato mezzo dito di sangue quindi sono particolarmente afflosciato perché poi siamo rimasti in pochi nel mio settore se ci ambagliamo anche noi praticamente chiudiamo parliamo di nata a neve, è sabato quindi ci dedichiamo ad argomenti futili futili mica tanto, i fumetti per me non sono argomenti futili naturalmente si può fare recensione di libri ma ribadisco sempre che per me non è che un fumetto a parte appunto dicevo ieri che i prezzi su Peugeot stanno coincidendo oggi ho comprato un libro che costava 8 euro circa un fumetto della Cosmo mi costa sui 6 euro la differenza sta veramente diventando molto labile tra 6 euro e 8 euro sì ci sono 2 euro di differenza ma quando ero ragazzo io tra 500 lire e 10.000 lire c'era un bel salto di qualità comunque questo è quanto questo è il progresso dice lo sto seguendo nata a neve che per ora costa sempre sui 3 euro e 90 poi non so se si aumenterà a parte tutti dicono che sia aumentato che aumenterà quindi noi ce ne faremo una ragione vi faccio vedere dicevo io lo seguo dal 353 il protocollo NOAA l'ho ripreso a seguire belle copertine di giardo le faccio vedere è un fumetto che merita questo è quello che è in edicola è il 358 questo lo trovate in edicola una storia autoconclusiva quindi vi faccio vedere anche le copertine precedenti sono molto bello diciamo solo le copertine valgono di 3,50 euro e se anche aumenterà 4,40 euro io continuo a prenderlo perché nella Bonelli non è che poi segua tantissimo seguo Nathan Never Dylan Dog Zagor e basta mi sembra stiamo esterno non è della Bonelli quindi in realtà è della Bonelli non è che poi seguo tutte queste testate praticamente Dylan Dog si a volte gli speciali a volte no insomma poi dipende Zagor con gli speciali più o meno Dylan Dog Zagor e Nathan Never praticamente sono 3 testate quindi insomma ovviamente per chi segue molte testate Bonelli ma insomma vabbè questo è il numero sempre copertina di giardo che è trovato in edicola 80 anni della Bonelli il mese prossimo sarà forse 4,40 euro non lo so ma insomma vabbè io a questo punto farei 4,50 euro e tagliamo la testa al toro tanto si capiscono diciamo come se ma perché o facciamo perché siamo sempre con i numeri dispari cioè 3,90 euro 4,40 euro cioè 4,40 euro che posso dire 3,90 euro e va bene 3,90 euro che non voglio mettere 4 euro ma tanto 4 euro se ne è arrivato quindi va bene facciamo 4,40 euro per la gioia degli edicolanti che da 50 centesimi di resto immagina Bonelli sarà molto amato dagli edicolanti quelli che sopravvivono più a Firenze e nel resto d'Italia ovviamente questa è una storia molto particolare e faccio vedere subito i disegni che ovviamente l'abbiamo parlato in manga questi sono disegni manga giapponesi cioè giapponesi qui c'avete Lex Weaver che ovviamente è uno stile assolutamente assolutamente manga ma c'è un motivo di tutto questo è uno stile di disegno ovviamente qui mi ha preso un colpo perché ho rivisto dice questo è Margaux di Dupin III sicuramente c'è un computer che mi danno mi danno messaggi strani e incomprensibili mi vuole aggiornare il computer ma io gli aggiornamenti già le facciamo tanti Margaux di Dupin III e ovviamente ma ovviamente va letta un po' la prefazione la copertina di Giardo la copertina di Giardo e dovete leggere la breve preparazione di Luca di Dupin III del Savio che vi spiega un po' le cose e naturalmente qui ci sono testi masperi con la collaborazione di Memora che purtroppo è morto un anno fa i disegni dall'oglio e ovviamente è un omaggio come dice di Savio a Iao Miyazaki autore del famoso Conan e i ragazzi del futuro con i cartanimati che noi perché in realtà Federico Memora aveva purtroppo la super giù la mia stessa età era ad un anno più vecchio di me Federico Memora che ovviamente sì è ovvio che noi del 68 69 siamo cresciuti con Conan i ragazzi del futuro qui ci sono varie varie altre ci dov'è Naosika la valle del vento vabbè e il maestro Miyazaki naturalmente è un omaggio al sì vabbè all'animazione giapponese ma in realtà è una storia ovviamente assolutamente di stile giapponese ovviamente modellata sulla sulla Bonelli o qui c'era scusate c'è anche Giacomo Pueroni che anche questo che aveva iniziato anche lui a fare le tavole di quest'albo che anche questo ovviamente ovviamente è scomparso nel 2017 ha fatto solo alcune tavole in bassa definizione e quindi è stata tutta ridisegnata dall'oglio ovviamente rimanda a Miyazaki queste scene da animazione giapponese con con anche il vabbè qui i pirati dei cieli ricorda addirittura Capitan Harlock si ricorda Capitan Harlock insomma capitano mi fa regare ovviamente i pirati i pirati dei cieli vabbè e va bene quindi ci si dimostra che in fondo l'incrocio tra fumetto Bonelli e quello giapponese può avvenire questo ovviamente è un fumetto bella storia ovviamente è una storia di un gruppo di pirati che ovviamente vive in un'isola in un'isola un po' ricorda le animazioni Miyazaki insomma quelle cose così che lottano contro un potere soverchiante eccetera ovviamente è nata a neve che si trova un po' a mezzo cioè non vi spoglio la storia questa ve la dovete guardare se volete leggere la storia è una storia molto bella di bella e carina di testi di Masferi con i diari probabilmente di Memola una storia molto carina molto leggibile molto sognante molto cioè per quelli della mia età del 68 è una storia che ha da dire molte cose e secondo me anche interessante questo uso del tutti questi retini con lo stile ovviamente giapponese manga secondo me è un'incrocio molto interessante molto carina anche direi piuttosto dal punto di vista grafico scusate mi hanno tolto mezzo litro di sangue stamattina mi so non solo l'arterioscredit c'ho anche il calo di pressione di tutto però è una storia molto interessante graficamente perché ci dimostra che dal punto di vista grafico si può fare questo incrocio tra occidente e oriente e facendo delle cose originali questa è una storia molto originale secondo me se questa fosse trasposta in formato manga più piccolo ci starebbe tutta cioè questa in un formato manga ci potrebbe stare tutta questa ristampata in un formato manga non avrebbe il punto di vista è ovvio che questa siamo nella Bonelli poi ci sono tutti i personaggi di Miyazaki insomma sono citazioni che voi guardate un po' da soli di personaggi ovviamente del manga del fumetto giapponese quindi però questa è una storia molto interessante perché veramente dimostra che si possono fare delle cose cioè io anche poi a volte dal punto di vista si diventa un po' manichei i manga da una parte i Bonelli dall'altra certo di Randog in frizione manga la vedo difficile però in alcuni fumetti come Nathan Nevel che ha argomenti fantascientifici questo incrocio con il fumetto con il fumetto giapponese può avvenire tranquillamente e certamente Nathan Nevel può essere un fumetto dove secondo me la Bonelli potrebbe giocare Tex Wheeler manga la vedo difficile nel senso come fa lo puoi fare certamente però Nathan Nevel a volte può avere degli spunti può avere degli spunti di incontro con i lettori di manga più interessanti secondo me di quegli italiani che fanno i disegni manga duri e puri alla giapponese perché poi bisogna essere manichè sia manichè nel voler rigettare i manga o manichè nel voler essere più giapponese dei giapponesi forse si può trovare una via di mezzo secondo me questo esperimento di dall'oglio per esempio Sigmund quando appare si appare ora c'era è qui Nathan Nevel è chiaro che è un eroe giappone è ridisegnato in fase manga e ci sta bene il bello è che va bene così a me non crea non crea fastidio non crea disturbo non mi crea alcun problema cercavo Sigmund se lo trovo per esempio Sigmund è ovvio che è più difficile disegnare lo in stile manga anche perché ovviamente ha quel naso piuttosto imponente quindi c'è un incrocio tra il disegno Bonelli e quello manga Lex Weaver viene benissimo in manga in stile giapponese quindi secondo me questa è una cosa molto cioè a parte l'omaggio ovviamente al maestro Miyazaki e a chi volete Miyazaki a Memola e a Poeroni però secondo me questa è una strada che potrebbe battere la Bonelli nel senso che la Bonelli è legata al formato Bonelli l'ha inventato lei però secondo me il formato Bonelli non è una sorta di cosa che è scelta è scesa oggi sono proprio su problemi di collegamenti mentali però l'albo Bonelli non è una cosa che non è che è arrivato con Mosecco le dieci tavole quindi in alcuni casi si può anche c'è la stessa Bonelli potrebbe anche fare eccezione all'albo Bonelli cioè tutte hanno ripreso l'albo Bonelli Sama Stern l'editoriale Cosmos l'albo Bonelli ha avuto un grande successo però la Bonelli a volte potrebbe non fare albi Bonelli la bucola in senso soprattutto un fumetto come questo in formato Manga secondo me qui il disegno non ci perde niente il disegno come questo in formato Manga più piccolo ci sta la grande eccetera naturalmente grande uso di retini quindi una storia molto particolare e anche un'eccezione per i lettori di Nathan Never insomma fate un po' voi però questa ve la consiglio vivamente perché anche al non lettore di Nathan Never può leggersela così tranquillamente io leggevo Nathan Never qua negli anni bo' 90 mi sembra quando uscì Nathan Never la prima volta aveva anche gli agri originali di Nathan Never che poi ho perso anche quelli e ho perso un sacco di roba quindi mi scelicce vuol dire anche uno che fosse rimasto vent'anni indietro qui non avrebbe alcun problema perché è una storia assolutamente fantastica e quindi che non ha eccessivi legami con tutta la saga dell'agenzia Alfa che invece si è sviluppata nei numeri precedenti ma bene consiglio di lettura questo veramente lo consiglio vivamente se fate voi i soldi sono vostri soprattutto raccogliamo però prima che aumentino prima dell'aumento scusate avete l'occasione di prendere Nathan Never ancora a 3,90 saldi di fine stagione saldi di primavera perché poi aumenteranno pare non so non ci sono io non ho letto però nei fumetti non c'è scritto niente quindi forse nel sito della Bonelli ci sarà scritto io non ho scusate non ho controllato in maniera così specifica ho semplicemente sentito le notizie sul web sui vari canali youtube e quindi va bene però sì io appunto seguendo tre albi non è che la cosa mi cambia ma tanto già la Cosmo mi costa 5 euro abbassassero più che aumentare la Bonelli se abbassassero i prezzi la Cosmo faremo almeno poggi e buca ecco aumenta la Bonelli abbassa la Cosmo perché io compro diversi albi Cosmo quindi compro Braccio di Ferro Wertel e l'Eternauta quindi lì si va si sviaggia sui dai 5 euro in su quindi insomma sono abbastanza cari quindi va bene nata a neve i Pirati dei Cieli omaggio prossimo omaggio a Miyazaki anche se io ce l'ho ritrovato Lupin Terzo questa è Margot ragazzi ditemi quel che vi pare ma questa è Margot di Lupin Terzo io sono sicuro che questa è Margot Eva questa mia visione che questa è Margot e va bene non sono quasi sicuro che è Margot di Lupin Terzo e va bene no dicevo niente la copertina che appare l'exweaver in costume da bagno qui si questa è Natanever che vola magari non è proprio il ma cioè qui in realtà Giardo ha fatto di meglio nelle copertine precedenti però ha sempre altissima qualità è questa muscolatura e questo braccio qui che mi convince poco mi sembra un po' ecco diciamo l'unico difetto mi sembra un po' tipo Biggy quando eravamo bambini invece si aveva i biggym che se tu nei tempi pre-storici avevamo i biggym mi ricorda un po' biggym ecco come struttura muscolare però vabbè infatti c'è un difetto ce l'ho visto io però la copertina poi l'exweaver comunque compensa la grande e va bene poi le coperte di Giardo sono sempre molto belle quindi però magari sono più belle queste copertine qui insomma o più Philip Dick o questa qui veramente stupenda qui vabbè quelle magari i primi piani insomma Philip Dick insomma quelle lì insomma secondo me lì dà un po' il meglio di sé però vabbè a parte questa piccola notazione però il volume ne vale assolutamente la pena e con questo vi saluto